E questo avvocato Marco Carducci non lo conosce? Io conosco l'avvocato Marco Carducci perché è il presidente del Comitato dei Garanti del Partito Democratico. Potrebbe essere l'uomo della vostra sintesi? Può. Ma, chissà. Marco Carducci, avvocato, presidente della Commissione dei Garanti del Partito Democratico, uno dei revisori dei conti nel comune di Massa ai tempi di Fabrizio Neri, sindaco, e uomo di fiducia, oltre che grande amico dell'onorevole Andrea Rigoni, sarebbe lui, secondo le ultime voci della politica locale, l'uomo della sintesi del PD, da presentare come candidato unico alle primarie di centrosinistra. La notizia, naturalmente, non la conferma nessuno, neanche il segretario comunale del PD Cesare Ugolotti, tirato per la giacchetta da più parti e incalzato a più non posso, ma che durante la trasmissione Logos, andata in onda ieri sera su Antenna 3, ha sostenuto di non vedere Carducci da molto tempo e di non saperne nulla. Cercate sempre di estrarre il coniglio dal cilindro, ha commentato con una battuta Ugolotti in tv, ma non esiste ancora nessun coniglio. Eppure, non è più un segreto per nessuno che il PD stia cercando un candidato unico da presentare alle primarie, per evitare di disperdere voti ed essere più sicuro di vincere la competizione interna del centrosinistra. Una linea che però contrasta con le dichiarazioni degli ultimi mesi di Ugolotti, ribadite anche ieri sera in tv. Se fossi io a decidere, specifica Ugolotti, le primarie sarebbero aperte a più candidati, ma non decido io, bensì l'assemblea, mi rimetto alla decisione del partito. Ugolotti fa la parte del segretario coerente, di colui che dopo aver detto per sei mesi che chiunque avesse le caratteristiche per partecipare alle primarie poteva farlo, non si vuole rimangiare la parola, anche perché andrà spiegato ai cittadini come mai il PD sceglie un candidato unico e non la trasparenza delle primarie, anche per i suoi candidati. Sopro Ugolotti c'è la logica ben più potente, quella del partito, che invece vuole andare a vincerle queste primarie e sceglie la strategia del nome nuovo, ma allo stesso tempo fidato e professionale, come appunto è Marco Carducci.